Tre punti in una gara dai due volti per Saugella Team Monza, che regola 3-1 Banca Valsabina Millennium Brescia. Le monzesi raddoppiano il distacco in classifica sulle Bresciane, ferme al nono posto, mentre le ragazze di coach Mazzola trovano la quinta sconfitta consecutiva. Padrone di casa, avanti nettamente nel primo sette fino al 23-15, che sembra chiudere i giochi, con buona distribuzione per tutte, e Villani e Rivero fuori dai giochi per le ospiti. Brescia però continua a lottare e si riavvicina con Nicoletti e Washington prima del 25-23 finale. Scampato il pericolo, Saugella fa il vuoto nel secondo set, vinto 25-10, ma nel terzo trova le leonesse più agguerrite che mai. Peterson dà la panchina a un ottimo impatto e Villani si risveglia, mentre Monza diventa più imprecisa e subisce nel finale lo scatto di Brescia, che chiude 22-25. La gara sale di colpi e diventa più spettacolare, e si va punto a punto anche all'inizio del quarto. Poi Saugella accelera e chiude 25-17, con Ortolani top scorer da 19 punti, e Arcangeli meritata MVP non meno di Ortman, precisa in ricezione e letale in attacco, con 17 punti per Brescia. 16 di un'ottima Nicoletti.